Non dovete ringraziare a me, io sono una poveraccia, che prego. La straordinaria esistenza di una donna che ha dedicato la vita al prossimo, raccontata in un documentario esclusivo. Il rifugio delle anime, storia di Natuzza Evolo. Testimonianze, interviste e la meraviglia della Basilica di Paravati, che ha preso forma dalle sue visioni. Una produzione Studio Colosseo in collaborazione con Rai Documentari, da un'idea di Pino Nano e Maurizio Pizzuto. In prima visione su Rai 3, venerdì 1 dicembre, ore 23, e disponibile su Rai Play.